Ma vogliamo anche parlare al Paese. Parlare al Paese vuol dire dire molto semplicemente innanzitutto che nella decisione che il centrodestra ha assunto ieri c'è un primo punto assolutamente chiaro da parte nostra da mettere in evidenza e cioè che non c'è nessun diritto di precedenza che il centrodestra oggi ha o può vantare di indicare il Presidente della Repubblica. Lo dico con molta chiarezza perché in questi giorni forse si è confusa un atteggiamento rispettoso nei confronti delle istituzioni da parte nostra con un'idea che il centrodestra occupando il campo ha appunto voluto confondere con l'idea che ci siano dei numeri in Parlamento per i quali il centrodestra sia automaticamente con il diritto di precedenza o di prelazione sulla figura del Presidente della Repubblica. Questo diritto non c'è, i numeri non lo assegnano, la politica e la situazione politica del nostro Parlamento e nel Paese non lo assegna.